La sua immagine apparirà proprio adesso Sapete, siete una specie di leggenda all'ufficio informatico dell'NSIS di San Diego Ma dai Adesso il signor Flynn lavora in quell'ufficio come tecnico forense Vi insegnerà un po' di cose nuove Abbiamo saputo dall'NSA che Tara e Paul Nelson erano fuori città ieri sera quando è stato ucciso Logan Ora stanno andando a un ritiro di due giorni per coppia nella foresta di Angeles Una notte fuori sotto copertura, che meraviglia che se io ci andiamo a nozze Abbiamo ancora dei marshmallow in macchina Sì, ne abbiamo sempre una scorta Signor Vicks, rallenti, lei corre troppo Con la signorina Bly seguirà i nostri agenti sotto copertura per controllare la situazione a distanza Il Woodland Couples Connect è un ritiro per le coppie della Silicon Beach Che vogliono allontanarsi dalle tecnologie e riscoprire la natura Oh, è un'idea fantastica! E chi va sotto copertura? Sul serio? Oh, noi? Io e Eric che ci fingiamo una vera coppia? Forte! Fortissimo! L'NSA vuole che stiamo alle costole di Nelson durante il ritiro Potremmo arrestarli anche subito, ma se li teniamo in gioco Potremmo trovare il loro acquirent I file rubati non devono finire nelle mani sbagliate Ho già attrezzato il vostro veicolo per il monitoraggio e nel vialetto D'accordo, buon viaggio Vi voglio vedere in azione D'accordo Divertitevi Dave, aspetta, quindi io me ne andrò da qui e tu sarai in sala operativa a parlarmi all'orecchio? Sta succedendo troppo in fretta Eric, rilassati Andrà tutto bene, ho studiato il caso e non sono un novellino Ho anche preso parecchi caffè, quindi... Oh, dimenticavo L'unico modo per raggiungere lo chalet è arrivarci a piedi passando per un percorso ben preciso Perciò indossate scarponi e pantaloni Pantaloni lunghi Buona fortuna! Eric, in pantaloni lunghi, voglio proprio vederti Questo posto è molto rustico Preferisci il lato vicino al comune? Non lo preprezzo Ok Io mi metto di qua Che cos'hai? Sembri un po' nervoso No, sto ripassando la mia storia La prima volta sotto copertura Anche per me, ma... Ormai siamo pronti Eric Sherwood, Dave, resida, specialista in malware Puoi dirlo forte, Nell Queen di Calversity, esperta di sicurezza digitale Un bel respiro Andiamo Quanta muffa Ragazzi, noi da qui vi sentiamo, ma vorremmo anche tenervi d'occhio Ecco, ora dovreste vedere lo chalet Lo vediamo, e vediamo anche i due giovani aspiranti Bear Grylls Siete davvero carini, non lo posso negare